Carissimi fratelli, sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Oggi la Chiesa celebra la festa di San Francesco d'Assisi, anche padrone dell'Italia e dell'Europa. Meditiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti 25 a 30. In quel tempo Gesù disse, il figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Possiamo dividere il nostro brano in tre parti. La prima parte, o nella prima parte, Gesù rende lode al Padre suo perché finalmente i piccoli, gli emarginati, i deboli, i pagali, tutti quanti hanno riconosciuto queste cose. Ma che cosa? Soprattutto l'identità di Gesù Cristo. Sono i poveri che hanno conosciuto che Gesù è l'inviato di Dio. I sapienti no, i dotti no. Perché? Perché loro pensano conoscere Gesù Cristo con la ragione. Ma conoscere Gesù Cristo è entrare nella fede. Solo con la fede che si può conoscere Gesù Cristo. La seconda parte di questo brano troviamo la rivelazione, la conoscenza di Cristo. Nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno conosce il padre se non il figlio o colui al quale il figlio vorrà rivelarlo. Allora, quando parliamo della conoscenza, non si tratta della conoscenza come studio, ma qui si tratta dell'ubbedienza alla parola di Cristo. Perché solo chi frequenta la Sacra Scrittura, chi conosce questa parola, che può entrare nell'intimità con il Signore. Dunque, conoscere Cristo è entrare proprio nella sua parola, nel modo di adorazione e poi creare questo rapporto intimo con Lui. Ecco la conoscenza di Gesù Cristo, l'ubbedienza. L'ubbedienza a Lui, obbedire ai Suoi comandi, alle Suoi parole, a tutto ciò che Lui ti propone per la vita nostra. Ecco perché ha detto che tutto gli è stato dato dal padre suo. Tutto, tutto. Nulla gli manca. Per dirci, ecco, noi, conoscendo Cristo, cioè ubbedendo a Cristo, entrando nella profondità, cioè nell'intimità con Lui, conosceremo anche il padre. Vi ricordate la domanda di Filippo a Gesù nel Giovanni 14? Mostrati il padre e ci basta. E Gesù, rispondendo a Filippo, ha detto, chi ha visto me ha visto il padre. Dunque, Gesù è il sacramento del padre. E non potremmo cercare il padre perché lo abbiamo davanti a noi in Gesù Cristo. E Gesù afferma, giustamente, che tutto quello che ha l'ha ricevuto dal padre suo. Per dirci, carissimi, non possiamo cercare la nostra salvezza altrove. Gesù ha tutto. Ma purtroppo noi andiamo a cercare la salvezza dalle creature, dai maghi, da quelli che giocano le carte, da quelli che fanno gli oroscopi. Cioè, noi andiamo da queste persone a cercare la vita. Gesù ha detto, lui ha tutto. E San Paolo, nella Lettera ai Romani, capitolo 1, dice che hanno adorato la creatura invece del creatore. Ecco quello che noi facciamo. Invece di adorare il creatore, noi adoriamo la creatura. Siamo insoddisfatti e andiamo a cercare la vita altrove. Gesù oggi afferma che lui ha tutto. Nulla gli manca. C'è tutto in lui. La pienezza in lui. Andiamo verso di lui. Ecco la terza parte di questo brano. Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi. Siamo stanchi della vita. Siamo stanchi delle cose che sentiamo e che vediamo. Siamo stanchi della nostra società, di quelli che ci fanno del male. Siamo stanchi. Siamo stanchi anche dei nostri pensieri. Siamo stanchi di essere indaffarato. Siamo stanchi della pigrizia nostra. Siamo stanchi di tutto. Ma Gesù ci offre l'opportunità di andare verso di lui. E come abbiamo detto, che la conoscenza di Cristo passa per mezzo dell'obbedienza, alla sua scrittura, l'obbedienza ai suoi comandi, e lui propone di prendere su di lui il suo gioco. Il gioco non da intendere come un fardello che si mette sulla testa. Nell'Antico Testamento o nel pensiero ebreo, il gioco era l'insenamento di un maestro. L'insenamento era chiamato il gioco. Allora, se Gesù dice che il suo gioco è leggero, significa che il suo insenamento è facile, è leggero. Potremmo imparare e poi mettere in applicazione. Al contrario dell'insenamento dei farisei, che era molto duro. Era un gioco durissimo. Per esempio, dente per dente, occhio per occhio. Amare il prossimo, odiare il nemico. Per esempio, ecco, è un gioco pesantissimo, ma Gesù ci propone il suo gioco suave e leggero. Andiamo verso di lui, ad attingere al suo insenamento. E poi, una volta, ci siamo avvicinati di Cristo, e adesso impareremo da lui a essere umile, solo con l'umiltà del cuore. Non soltanto si conosce Gesù Cristo, ma anche si troverà la salvezza. Cari simili miei, andiamo verso Gesù Cristo, lasciamo tutto nelle sue mani. Lui ci sta chiamando. Non resistiamo. Poniamo tutto ai suoi piedi e lui ti darà il ristoro della nostra vita. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre. E buona festa a tutti i Francesco, o tutti quelli che si chiama Francesco, diciamo così, che Dio sia con voi.